Quindi dobbiamo avere sempre questo punto di equilibrio fra necessità di ripresa delle attività economiche ma necessità di salvare l'Italia. Parliamoci anche qui con grande chiarezza. Noi possiamo anche fare la corsa ad aprire tutto. L'isolamento dei cittadini, le limitazioni alla mobilità, le attività economiche sono qualcosa che pesa ovviamente. Ma la cosa più drammatica sarebbe un'altra e cioè riaprire le attività economiche in maniera indifferenziata e poi dopo due settimane, il tempo di sviluppo del contagio, essere costretti a richiudere tutto. In questo caso sì, noi non reggeremmo più e crollerebbe l'Italia perché una nuova stagione di isolamento non la regge il Paese intero. Ci avviciniamo alla fase 2, cercheremo di ragionare in queste ore sulla possibilità di qualche apertura in più, di qualche flessibilità in più. Se riterremo con le nostre autorità sanitarie di poterlo fare, lo faremo con grande piacere. Se possiamo anticipare di qualche giorno anche la consegna a domicilio, con tutte le norme di sicurezza che saranno ovviamente obbligatorie e quindi mascherine obbligatorie, guanti obbligatorie, mascherine obbligatorie per i laboratori nei quali si produce questo cibo d'asporto, ma saremo felici anche noi di poter avere qualche apertura in più. Ma lo faremo da persone responsabili, non per ragioni di opportunismo, ma quando avremo la convinzione fondata che questa apertura non determina nuovi focolai. Cercheremo di essere flessibili, cercheremo di aprire quello che si può aprire in maniera ragionevole. Siamo i più interessati a far partire quanto prima possibile le attività economiche. Siamo i più interessati contemporaneamente a garantire pienamente il percorso di fuoriuscita della nostra regione dalla epidemia e dalla emergenza sanitaria.